50 ml di creme armé, 20-30 di bourbon, 20 di gelato di cannella e un po' di lime. Adesso andiamo ad aspettare prima del cere, almeno l'abbiamo già pronto per quando lo verso. Andremo a versare creme armé. Qua non è riguardo all'arancia, ma è un po' più difficile. Quindi proviamo a fare quattro. Si fa un bel metodo di ragazzino. Poi, ben benchmark, davvero uomo del pentaglio, 25. E' un po' per solito, scusate. E' un lime, facciamo sempre un po' 5. E' un po' di sceglia, un po' di cammella. Ho pensato al sinistro, diciamo, un po' di sceglia, un po' di sceglia. Un po' di sceglia, un po' di sceglia. Adesso lo andiamo a sceglia. Prima un assaggio, perché non si non è mai bene. E' un po' di sceglia, un po' di sceglia, un po' di sceglia, perché mi stavo scorsando. Adesso andiamo a sceglia. Adesso. Adesso attento una sceglia, perché mi piace un po' di male. un po' di sceglia. E' un po' di sceglia. E' un po' di sceglia. Adesso, ci sono un po' di sceglia. Sbagliato, fai un po' d'acqua dal bicchiere, che era un po' di due. Fai un po' d'acqua. No, non so, sbagliato. Errore linguistico. Non so, c'è la bezzata. Non so, c'è la bezzata. Un po' girato, a me mi pregava un troppo l'ancio, pure nelle gare di giuro mi pregava sempre l'ancio, infatti. Questo che vuole di castellare un vetro per cazzo, non è venata. No, no, vabbè. Ho capito, però c'è a porre il palco, insomma. Questa è una cosa che vale di palco. E adesso andiamo. Questo lo chiamiamo al cavalere nero.